auspichiamo che si faccia il ponte sullo stretto di Messina, ma in attesa che accadano questi lavori ci sono tanti piccoli lavori che possono partire dai comuni, la ristrutturazione di una scuola, l'asfalto di una strada, piccoli lavori su cui i comuni avrebbero già le risorse che però sono vincolate a causa del patto di stabilità. Noi chiediamo anche da questo punto di vista la regione, con la politica di incentivi della politica, è finita l'epoca di assistenzialismo, di chi distribuendo o promettendo posti di lavoro pensa di speculare sul bisogno per dare la propria carriera politica una prospettiva. Noi vogliamo sulla piccola impresa realizzare un disegno in cui la Calabria si avrà voluto. Questa grande possibilità che noi abbiamo di combattere cittadino, regione, Stato centrale, polizie carabinieri, promuovere una più efficace coordinamento sul territorio, non servono le onde, che non esistono il mondo dell'Italia, serve che la regione faccia squadra, in sintonia, forte con gli organi dello Stato. Qui c'è bisogno di tutti, perché questa battaglia contro la delinquenza è una battaglia di cui si deve apportare la prima persona che avrà la possibilità di vivere questa regione. Cari amici, il Comune di Lamezia, la regione Calabria, il nostro partito, sono impegni che stipuliamo con voi, che ci avete seguito, molti di voi, nella buona e nella cattiva sorte. Abbiamo ritenuto di assumere una posizione di stabilità. Come dicono i nostri slogan, abbiamo scelte migliori. Io sono convinto che questi candidati siano migliori. E consentitemi, rivolto agli amici dell'Udc, di terminare con una battuta. Dimostreremo lunedì che non è vero che l'Udc va con chi vince, ma è vero, è profondamente vero, vince chi viene con l'Udc. Sì, è vero, è vero. Ciao, ciao ragazzi. Giordano, ciao ragazzi. In questo momento è giro, è vero, è vero. E' vero. Ciao ragazzi. Giordano, giro, 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 giro. Giordano, giro che l'Udc. Vieni, 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 forte. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ciao, c'è l'amore. Ciao, che deve andare. Il nostro sogno già diventerà Dove è? Dove è? Dove le poste venite a prendere? Come? Come si attiva Come si attiva Vabbè Vai, vai, vai Vai, vai, vai La pace di libertà Il nostro sogno già diventerà Il nostro sogno già diventerà Il nostro sogno già diventerà L'onorevole Mussi, l'onorevole Mussi ha detto in comizio L'onorevole Mussi ha detto in comizio settimana scorsa Cassini deve decidere cosa vorrà fare da grande A Mussi gli voglio troppo bene perché è stato il mio vicepresidente della camera L'onorevole Mussi ha detto in comizio settimana scorsa In comizio settimana scorsa Vabbè? Ben certi da, non mi devo dare che sarà passato ragazzi Non mi piace, non mi piace, non mi piace Non mi piace, non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace Salsiccia, salsiccia Voglio capire che cos'è No, 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 no E' un colciume di Natale Un colciume calabra Tièmelo, tièmelo, tièmelo in macchina Chi è? Chi è già? Dai, veloce E allora me ne faccio Dai, il bambino qua, il bambino Il bambino No, no, io andavo Vado a salutare E lei che cos'è? La signora ha fatto lei E' bene Ciao 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 Bravo 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 Non mi chiedi giù Non mi chiedi giù E si arriva Stai se lei Presidente Presidente L'autorio fa una bandiera Presidente Ah, madonna mia Si ingerogli a Casini Con la bandiera Bravo 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 Da la ricco Da la ricco I goti piangono Il gran morto Il gran morto Il gran morto Il gran morto Armaio Questa bambina Non c'è Ciao Eh, non scena la scuola Così va bene No E' un po' comodo Il posto del Cristo Ah Ciao ragazzi Ciao ragazzi Arrivederci Grazie 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 Dammi cosa fare La tenga dura La tenga dura La bandiera Ecco Ah, ragazzi Eh, è un po' la piazza Stava portando E' un po' la prima Siamo assi Ma non c'è A lui Lui è il mio è una bella bimba che ti vuole dare un bacio ragazzi non sono sugli sci, siamo due a Pasquale Nicolette la baratola la baratola ragazzi ancora Grazie mille Grazie mille Ce l'abbiamo fatta E' uno dei politici nazionali più amati in questa città sicuramente Dalla folla che è venuta intorno a lui Ma anche per supportare questa candidatura che è nata con tante scandiscenze qui alla mezza Questa competizione elettorale molto spettacente E porterà la vitologia E porterà la vitologia